Pronto? Pronto? Sì? E' il porto Almasander, la contattiamo all'area convenziale FastWeb FastWeb? Pronto? Sì, pronto? Sì, mi sente? Sì E' la FastWeb, la stiamo contattando per una consulenza, possibilità di valutare da vicino la nostra offerta Ma io ho già un operatore Quindi già è FastWeb al momento lei? No, non sono FastWeb E allora? E allora come la mettiamo? Allora, che gestore sta usando adesso? Gavino Ah? Gavino Pronto? Che gestore utilizza, sì? Gavino, Gavino utilizzo Quello 570 E' un gestore locale? Sì, 5,70 euro al mese, tutto compreso Ma è un gestore locale? Sì, sì Sì, ma ha una pessima linea però, perché io non la sento proprio per niente Perché lei è FastWeb, dovrebbe passare a Gavino, forse mi sente meglio No, assolutamente, il problema ce l'ha lei Ma lei che operatore usa signora? Ma lei che operatore usa signora? FastWeb Ma perché non passa a Gavino, le faccio questa offerta con 5,90 euro a tutto compreso, chiama senza limiti Se lei mi manda l'ultima bolletta signora, io le faccio il passaggio a Gavino con 5,70 euro, lei paga gratis, tutti i giorni, illimitati, sia internet che chiamate illimitate, verso telefonini e verso telefoni fissi, tutto compreso, no limiti 5,90 euro, ma lei stamattina 7,90 euro, invece di fare con la carta di credito No, ma possiamo fare anche direttamente con la carta di credito signora, se non c'ha l'Iban bancario a disposizione, se mi dà la carta di credito, le faccio subito, le attivo immediatamente il contratto e così da domani avrà già attivo Gavino a 5,90 euro, tutto compreso Chiamate illimitate, verso fissi e verso telefoni signora, è una promozione, la prenda al volo perché magari ci sono anche altre chiamate sotto Ma che mi ha detto che cerco la promozione io? Come no? Lei ha chiamato, e se no chiamavo io se cercavo la promozione io Ma non le sto dicendo che sto cercando una promozione Ma è lei che mi ha chiamato signora, se no chiamavo io lei se volevo una promozione io, mi ha chiamato lei, si presume che è lei che vuole da me una promozione, no? Ma non ci dice lei, povere persone che stanno attorno a lei, lei sta fuori di testa proprio No, ma io le sto offrendo una promozione eccezionale, me la sta rifiutando, 5,90 euro, Gavino, tutto compreso, linea fissa, linea mobile, internet Allora, facciamo così, la consulenza me la faccia lei, ci vediamo da vicino, io le dico in Italia Certo! E lei mi fa questa offerta da 5,90 euro Certo! Devo ammettere che ci avrà tanti di quei difetti, ma un pregio ce l'ha Qual è? Un pregio ce l'ha, quello lì del buon umore Perché sicuramente è uno che deve avere un buon umore Comunque a parte gli scherzi signora, siamo veramente a posto Ah ok Ciao, buon lavoro, ciao Grazie, ciao